Proprio così, negli ultimi sette giorni sono state ben quattro le bombe, le ultime due, quelle che citavi, esplose a soli cento metri dal commissariato di polizia. È stato devastato un salone per parrucchieri e un negozio di fuochi pirotecnici. Il titolare di quest'ultima attività avrebbe ricevuto nei mesi scorsi una lettera di minaccio e chiede più controlli e maggiore sicurezza. Le bombe di questi giorni hanno distrutto locali, le fiamme hanno minacciato appartamenti con alcuni ordini. C'è stato anche il rischio di poter vedere crollare interi palazzi, c'è paura a Sansevero ma anche la voglia di continuare a fidarsi dello Stato. I commercianti danneggiati hanno garantito tutti, riapriremo le nostre attività al più presto senza paura. La città e l'intera provincia di Foggia sono sotto assedio, c'è una strategia della mafia per farci sentire assediati. Aveva detto il sindaco Francesco Miglio che aveva anche chiesto un intervento del Ministero dell'Interno e lunedì in prefettura a presiedere il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ci sarà direttamente Luciana Lamorgese al timone del di Castero con tutti i vertici delle forze dell'Ordine. Da Bari è tutto, a te Simona. Grazie.